Ottobre. Aquisgrana. I Crucchi combattono come pazzi perché è la prima volta che una loro città viene invasa dagli alleati e non sarà l'ultima. Dopo la liberazione di Parigi pensavamo di tornare presto a casa, ma i nostri guai erano appena iniziati. Adesso combattiamo in una città, Aquisgrana. Se i Crucchi ci tengono tanto c'è un buon motivo. È la chiave per sfondare il loro fronte occidentale. Davis ci fa avanzare quartiere per quartiere, casa per casa. Per snidarli tutti, dice. Tarnan e Pearson non si parlano da quando siamo arrivati qui. La fatica inizia a farsi sentire. Continua pure, vediamo che succede. Ancora fagioli e proiettili. Se io ti dico di farlo, è quella la cazzo di missione. Ehi, datevi una mossa. Vi voglio pronti entro il tramonto. Ehi, è arrivata questa, dalla tua ragazza. Ti avevo detto di non frugare tra le mie cose. Come si fa a non aprire una letterina così bella? Soprattutto se pensi che l'abbia è mollato. Vedi l'indirizzo? Ha scritto Daniels, non Red. Significa solo una cosa. Mi dispiace, secondo me ti molla. Ehi, forse è come la lettera di Schrödinger. Hai presente? Se non la apri è ancora la tua ragazza. Ehi, forse è la lettera di Schrödinger. Basta, stronzate! Domani attacchiamo il teatro statale alle 7.30. Tutti quanti hanno un limite. Tutti quanti. Vero o no, Esa? Poter credere che mi ami ancora mi darà la forza. Dai, andiamo! Andiamo, Daniels! Preso! Giù la testa! Merda, noi li ammazziamo e quelli continuano ad arrivare. Presto ci strapperanno la piazza! La stiglieria è in arrivo, dicono 10 minuti al massimo! Non li abbiamo, Tenente Turner! Ci servono subito dei carni! I carni ci coprono il franco! Siete un po' zitti e fatemi pensare, cazzo! Non c'è tempo per pensare! Ehi, Daniels! Due Aiello con Pearson a chiedere supporto. Forza! Ok, andiamo! Forza di copertura! Daniels, un telefono da campo! Vado! Dagwood White 2-7 a V-Lane! Siamo sotto attacco! Serve supporto immediato sulla linea 2! Passo! Ricevuto! Ma così lasceremo il fianco esposto! Passo! Muovete il culo e venite qui il prima possibile! Agli ordini! Arriviamo! Passo! E fate presto! Quei pack ci fanno a pezzi! Passo e chiudo! Ok, ragazzi! Ci spostiamo allo Stadttheater! Il primo plotone nei guai! Posizioni nemiche sconosciute! Passare a radio e interfono! Radio accesa! Repson! Noi andiamo a destra verso il teatro! A destra! Ricevuto, Perez! Abrams! Paul! Restate qui con il secondo plotone e difendete il fianco fino al nostro ritorno! Ricevuto! Affermativo, Perez! Massima attenzione e occhio ai nemici alle finestre! Ok, Repson! Andiamo! Ehi! Vedo movimenti! Lato destro! I nostri al teatro sono nella stessa nostra situazione! Appena spaziamo via i tedeschi ne sfondano fuori altri! Siamo nel loro territorio! È tutta un'altra storia! Se vogliono un massacro è quello che avranno! Non hanno speranze contro di noi! Loro sono convinti del contrario! Squadra Panzershek! Fanteria tedesca! Armi leggere! Stanno attaccando i nostri! Fuoco a volontà! Fuoco a loro Fuoco a volontà! Fuoco a volontà! Come va! Fuoco a volontà! PANZER SHARK LADOVANTI, INATO! Un PANZER SHARK ci colpisce dall'avanti! DAGWOOD WHITE 27 A VILLAIN, DOVE SIATE FINITI? ARRIVIAMO! INCONTRIAMO RESISTENZA SUL VOSTRO FIANCO OVEST, PASSO! Svelti, PENES! PASSO E CHIUDO! REPSOL, STANNO ATTACKANDO IL PRIMO PLUTONE! SIAMO QUASI ARRIVATI, VAI AVANTI! REPSOL RALLENTA, NON TI VEDO! Cattedrale in vista, siamo quasi arrivati! PANZER, A DESTRA, A DESTRA! INCENTIO, AI PORTELLONI! MERDA, NO, NO! NEH, FUORI, FUORI! REPSOL, NO! PERES, IL PANZER, INATTACKABILI PRONTAMENTE! ACCENTIAVOLO! RECCIA VOTO, FACCIO GINO! GRAN COLPO! Le mitragliatrici non possono scarpirli! Niente! Colpo inefficace! Colpo neutralizzato! Furi bersaglio! Stategli alla larga! E poi ci troviamo! SONI! 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 CARRO NEMICO FORIUSO! REPSOL, RISPONDI! REPSOL MI RICEVI! RISPONDI! MERDA! REPSOL! PERDONAMI... A giusto un po'! Carro! Carro! Attiriamolo! Dobbiamo coltivare i fianchi! Perfondare inefficace! Colpo neutralizzato! C'è un altro Panzer anche qui! Un carro ci spara alle spalle! Così non resisteremo a lungo! Siamo a sottotiro! Attacco frontale inefficace! Non vedo più il nemico dove si è cacciato! Tiger a destra! Tenetevi fuori portata! Colpo diretto! La corazza frontale blocca i colpi! Carro! Carro! No! È un fighter! Attiriamolo! Dobbiamo coltivare i fianchi! C'è un altro Panzer anche qui! Colpo in gatta! Si ha ancora la vita in pieno! Tanto colpiti! Non è penetrato! Impossibile da entrare nella corazza frontale! Colpo perfetto! Ci attaccano! Ci attaccano da sinistra! Ci attaccano da sinistra! Dobbiamo muoverci! Siamo troppo esposti! Ricarico! Ricarico! Niente! Colpo inefficace! Bel colpo! Veicolo nemico distrutto! Il Panzer è ancora qui in giro! Dobbiamo distruggere quell'ultimo carro! Colpo diretto! Colpo diretto! Bel colpo! Colpo in gatta! Mezzo distrutto! Risaliamo all'altura da dove è arrivato il Tiger! Il teatro deve essere oltre la salita! Dagwood White 2-7 a Villain! Non resisteremo ancora molto! Villain a Dagwood White 2-7! Repson a terra! Siamo rimasti solo noi! Stiamo arrivando! Saliamo la collina! Faccio qualche riparazione! Il teatro è appena dietro l'angolo! Distruggete quei pacchi che colpiscono il teatro! Ricarico! Ecco il teatro! La squadra di Turner è nella merda! Enzo corazzato tedesco! Distruggiamo subito quel Panzer! Ci danneggiano! Ricarico! Carro nemico distrutto! Veicoli nemici in arrivo! Distruggeteli! Batterie Panzer Shrek! Appartamenti! Davanti! Di carico! Stanno scappando! Addosso! Manca poco! Potremmo eliminarli tutti! Lanciano i nemici davanti a noi! Un Panzer Shrek ci colpisce dall'avanti! Qualcuno vede altri bersagli? Negativo! Credo che qui abbiamo finito! Tutti sistemati! Villena! Duckwood White 2-7! Piazza libera! Ripeto! Piazza libera! Grazie per l'aiuto signore! Duckwood White chiudo! Ok! Peres resterà in posizione al teatro per coprirci il fianco! Noi dobbiamo avanzare verso l'hotel Allendorf senza supporto corazzato! Andiamo! Anche la città sarà nostra! Con qualche carro armato sarebbe tutto più semplice! Peres deve difendere la posizione! Dovremmo farcela da soli soldato! Attenti in alto! Occhio alle finestre! Attenti a quei negozi! Non mi piace! Troppo tranquillo! Stiamo allerta! Calma! State al riparo! Vitragliatrice! Via! Avanziamo e troviamo un barco! Poverti! Trovate! Braga! Non riesco a muovermi! Avanti! Aiuto! Teni duro! Teni duro! Teni e ti danno la vita! Grazie! Teni e la munizioni! Imboscata! A riparo! Un po' è il mio più stracosco! L'è morto! Un vinto in capitolo! Non riesco a rinforzare! 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 Ho un kit medico! Da questa parte! Al volo! Devo ricaricare! Mi servono munizioni! Truppe nemiche! Via libera! Scordiamoci le scale. Di sicuro non possiamo tornare in strada. Questo muro sembra debole. Daniels, colpiscilo con il lanciatore. Indietro! Vedo movimenti! Truppe nemiche! Fuoco! 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 sempre avanti puoi segnalare i bersagli per i mortai sempre avanti muoversi posizione nemica avvistata sempre avanti granata nell'edificio segnalare i bersagli per i mortai ok via libera occhi aperti signor sì sembra tutto tranquillo e la cosa non mi piace Daniels cosa vedi? i cieli sono sgombri i nostri hanno finito di bombardare ti godi il panorama soldato? cosa stai guardando? contatto visivo con l'albergo non vedo truppe sul balcone né altrove se per questo devono essere dentro a rinforzare le difese vogliono giocarsi il tutto per tutto allora riusciremo ad avvicinarci senza troppi problemi appena attaccato l'albergo dovremmo prepararci al peggio prima occupiamo l'appartamento forse i cruchi sono là dentro dopo averlo ripulito avanziamo verso l'albergo informazione Daniels Giusman davanti andiamo occhi aperti in quegli appartamenti potremmo trovare parecchi nemici forse in tutti e due gli isolati via libera avanzare occhi aperti Daniels serve di nuovo il lanciatore occhio all'esplosione non vedo niente ecco i tedeschi passavoli fuori non si passa dobbiamo eliminare i trucchi non li vedo state giù il fumo si tirata pronti a sparare e arrivano altri giù ce ne sono altri a riparo granate fumogini Daniels l'ho steso via libera raduniamoci qui Rogers va avanti e controlla la prossima stanza signor C porta bloccata dobbiamo infilarci dentro uno alla volta ora sembra molto stretto non so se ce la faccio ti dicevo di metterti a dieta ah molto simpatico merda merda aiuto stai bene sto bene i trucchi sono dappertutto i trucchi sono dappertutto i trucchi sono dappertutto puah mi chanate il teccos porta sforzo sforzo in tecca Grazie a tutti. No steso! Posizione lenica avvistata! Ok! Tutto a posto? A posto! L'albergo è là! Teniamo un basso profilo! Ok! Andiamo! Mi servono munizioni! Ho qualcosa per te! Quel camion ci blocca la strada! Spostiamolo! Aiello! Molla il freno e sterza! Solti gli altri a spingere! Va bene! Qui ho granate fumogeni! Daniels, devi aiutarci! Porca puttana! Come in buono stato? È carburante! La batteria funziona! Può darci un passaggio! Tenete, forse riesco a metterlo in moto! Chi l'avrebbe mai utile! Ah, ci falla! Ok! Andiamo! Kit medica, ragazzi! Daniels, un altro muro! Abbattilo! Passiamo piano con il piede! Avanti! Muoversi! Dobbiamo occupare l'atrio! Siusman a destra! Aiello a sinistra con me! Stiles al secondo piano con Pearson! Ricevuto! Dobbiamo! Li vedo alla scala principale! In fondo! Mitragnatrice sulle scale! Trovate a circonderli! E' a terra! Non cazzo a fuori da vicino! Eh, siamo da per tutto! Stanno muovendo! Andavanti! Sto fermo! Panteria tedesca! Nemigino arrivo da Stoves! Preso! Colpo da maestro! Daniels, dobbiamo raggiungere il corridoio dietro le scale! Ecco qua! Un nemico è che lo scoperto! Stanno avanti! Stanno uscendo! Sto fermo! Daniels, andiamo al corridoio sul retro! Tedeschi allo scoperto! Ecco, si arrivano! Ruppe di pesca! Edeschi allo scoperto! Fuori! Granate fumogeni! Stanno uscendo! Eccoli! Ladavanti! Daniels, dobbiamo raggiungere il corridoio dietro le scale! Arrivano! Stanno muovendo! Stanno muovendo! Perfetto! Avanzano da over! Stanno muovendo! Siamo scoperto! Arrivano da sudare! Stanno muovendo! Centrato! Daniels, andiamo al corridoio sul retro! Daniels, sono impatico per te! Devo ricaricare! Guardiamo! Forza! Andiamo al corridoio dietro le scale! Avanti a noi! Contatto! Ore 12! Panteria nemica! Escono allo scoperto! Scali! Non è nemica! Non è semplice! Viste in test! Carico! Daniels, dobbiamo raggiungere il corridoio dietro le scale! Panteria nemica! Eccoli! E' a terra! Apertorato in crano! Su, Daniels! Sì! Sì! Il richiamo di russare in portai! Esci alla scoperta! Di stagio muovendo! Buongiorno! 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 Daniels, andiamo al corridoio sul retro! Sì! Buongiorno! 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 Esci alla scoperta! Prendite le munizioni, Daniels! Daniels, dobbiamo raggiungere il corridoio dietro le scale! Signore, mi dia dei costi! Prince! Un nemico esce allo scoperto! Avanti a noi! Contatto! Ore 11! Va avanti, Daniels! Dobbiamo controllare l'area dietro la scala principale! Sì! Assurdo! Granate e fumocini, Daniels! Al corridoio sul retro, Daniels! Va avanti, Daniels! Dobbiamo controllare l'area dietro la scala principale! Si avvicinano da nord! Esci allo scoperto! No! Ecco che arrivano! Aiutano! Sono allo scoperto! Adria, ho libero! Spero che siano tutti! Tutti con Sander! Il secondo plotone ha i piani alti! A noi tocca lo scantinato! Con me! Ho granate e fumogeni se servono! Blanchi serrati! Ehi, Stiles! Ho trovato un altro figlio per te! Qualcuno! Basta! Daniels! La porta! Luci! Sembra una bambina! Qualcuno ha del cioccolato? Signor, sì! Avrai fame! Dai! Prendi! Anna! Tranquille! Tranquille! Niente paura! No, no! I rinforzi nemici saranno qui a momenti! Non possiamo fare da balia a dei civili! Sono soltanto in due! Signore! Venga qui a vedere! Ah! Davvero grandioso! Merda! Quel camion che abbiamo trovato prima! Lo portiamo qui e facciamo evacuare! Con tutto il rispetto! La nostra priorità è l'albergo! Sagen Sie! Vi abbiamo verwonderte! Vi vernerò che non avranno! Non parlo tedesco! Ich spreche lite deutsch! Es fiat alles gut! Parli tedesco? Quando cazzo pensavi di dircelo? Mai! Porteremo in salvo questa gente! Daniels! Aiello! Tornate a prendere quel camion! Ci vediamo al lato ovest dell'albergo! Muoversi! Chissà cos'altro ci tieni nascosto, Herr Zussmann! Non si preoccupi, sergente! Ah, invece mi preoccupo, soldato! E come? Adesso tocca a noi due, Daniels! Zussmann poteva dirlo che sa parlare tedesco! Viene da una famiglia di ebrei tedeschi! Non vuole che si sappia delle sue origini! Tutti abbiamo qualcosa di cui non siamo più! Perché dobbiamo sbatterci così per quei crocchi? C'era una bambina! E degli anziani! Non possiamo salvare tutti! Sono civili! Li porteremo in salvo! È nostro dovere! Sì, sì! Ecco il camion! Andiamo! Ok! Dammi un attimo per accendere questo affare! Bene! Ti copro le spalle! Movimenti in quegli edifici dall'altra parte! Basta! Contatto, ore e due! Mettilo in moto! Non avrei guidato un canio a pedesco! Non avrei guidato un canio a pedesco! E spregati! Non ancora finito! E sporgere quei segni cingolati! Aiello, datti una mossa! Nemico in direzione nord! Si muovono da nord-avest! Ma la maestà! Daniels, sta lontano dai segni cingolati! E sporgere quei segni cingolati! Non ne arrivano più! Forse si stanno ritirando! Ok! È in moto! Sali! L'hai messo in moto! Grazie mille per l'aiuto! Credo che si stiano raggruppando al lato nord! Dobbiamo avvertire la squadra! Dobbiamo portare al sicuro questa gente! O difenderci qui! Troppo rischioso! Meglio non esporli al fuoco incrociato! Ormai è tardi! Fa presto! Ha ragione Pearson! Non abbiamo il tempo di occuparci di questa gente! Sono civili! Dobbiamo aiutarli! Va avanti e fermati sulla strada! Sì, sergente! Bene! Porta fuori i civili! Forza! Andiamo! Forza! Signore, dobbiamo andare! Arrivano rinforzi! Anna! Ehi, dove stai andando? Mene spesta! Ho già detto! Sua sorella è tornata nello scantinato! Allora ci resterà! Dobbiamo portare via questa gente! Andiamo! Tenente! Vado io! Te lo puoi scordare! Hai due minuti! Vengo anch'io! No! Solo Daniels! È troppo pericoloso! Mi servi qui a proteggere il perimetro! Signor sì! Devi fare in fretta! Ricevuto! Daniels, va a cercarla! Voi! Gah! Oh, cazzo. Devo trovare Anna. Deve essere qui da qualche parte. Ehi, piccola. Andiamo. Ti riporto da tua sorella. Io ho trovato Caspar. Vieni. Tu non puoi, poi veni. Ssss. Va tutto bene. Voi stai? Er versteckt dich. Den Keller dorsuchen. Sei qui, Caspar. Ssssshhhh Ssssshhhh Non preoccuparti. qui c'è qualcuno qui c'è qualcuno sei bravissima siamo quasi arrivati devi farti coraggio ancora per un po brava Anna ormai manca poco si può sapere da dove spugano di qua sparano troppo rischioso dobbiamo andare si sistemerà tutto ci sono io sono qui con te tranquillo ti porto al sicuro mi fausia mi fausia E' uno dei nostri! E' uno dei nostri! Andrà tutto! La mia scena! I gruppi si ritirano! Cazzo, è Daniel! Daniel, vieni subito qui! Anna! Grazie! Ok, ora possono arrangiarsi, andiamo! Li porteremo in salvo, questo è quanto! Pearson ha ragione, se ci riportiamo dietro i cruchi ci attaccheranno, è troppo rischioso! È stato Ziusman, liberiamo questa strada e li portiamo al sicuro, chiaro? Chiaro signore, però forse sarebbero più al sicuro da soli! E se i tedeschi si riprendono l'albergo, ogni squadra che passerà di qua sarà in perigo! Non siamo a Kasserin! Siamo in vantaggio! Voglio tutti sul camion! Agli ordini! Posizioni difensive! Liberiamo la strada! Non siamo a Kassり! quadrarie! Lancia una Granata! Lancia una Granata! On le regal fire! Assecco! Ricarico! Il vento della posizione! Via libera! Tutto tranquillo, il giardino al sicuro! Strada libera! Ci siamo tutti? Che nemmeno noi in Lost Faven? Vi ha un brayke neunengut! Ah, io? Io posso andare! Attenzione! Hanno colpito il camion! Erika! 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 È morta! Andiamo! Via! Che cazzo fai? Eseguo gli ordini! Ripiegare all'albergo! Via! 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 Ehi! Non c'è più niente da fare! Abbiamo preso Aquisgrana e aperto un corridoio verso il Reno! Turner e Pearson sono sempre più distanti! Ma spero capiscano che la guerra avviene prima di tutto! Questa è una esperienza dove Canalit builde sulci consistio, mi dispiria delle ragi di tutto! Che percevo Punto Carapola. Grazie a tutti